Buongiorno, nuovo appuntamento. 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 Avanti con l'edizione terramana del centro, l'apertura. Pochi medici per malattie infettive. Ospedale Mazzini, il reparto deve fare fronte a un costante aumento dei ricoveri. E poi la fotonotizia ancora con il giallo della pittrice e le affermazioni del GIP. I santoleri avevano già la busta per il cadavere. Dunque c'è l'ipotesi di premeditazione dell'omicidio della pittrice. E poi ancora a Teramo d'Alberto ci sono i soldi per gli sfollati. Queste le parole del primo cittadino tenamano. E poi Prati di Tivo, nuovo bando per gli impianti del Gran Sasso. Foce del Tordino, troppi batteri. Stop alla vendita delle vongole. Andiamo ora sull'edizione aquilana del centro, dove appunto il titolo d'apertura è legato a quanto avvenuto ieri a Capistrello. Arrestato il sindaco di Capistrello a palti truccati in comune, ma lui si difende, ho fatto del bene. Altri 16 nei guai. Ed eccolo il sindaco di Capistrello, Francesco Cicciotti, accompagnato dai carabinieri nei pressi del comune di Capistrello. E poi i richiami. L'Aquila, la provincia, il Cotugno, a Collemaggio, ad Avezzano, la farmacia comunale passa ai privati. A Sulmona poca criminalità. Sfumano i fondi per le telecamere. In basso, murati, in alloggi, senza più balconi. All'Aquila, protesta del progetto Case di Preturo. Alcuni edifici stanno marcendo. E andiamo ora sulla prima pagina del messaggero Abruzzo. Ecco l'apertura. La regione cresce troppo poco. Economia, report del Cresa, pilla aumentato dell'1,2%, forte impennata dell'export, segnali incoraggianti dall'occupazione, ma vanno male l'edilizia e il mercato immobiliare. Sotto la testata, Gran Sasso, corno piccolo, storia riscritta dalla scoperta di un alpinista. A Lanciano le rubano le foto e le postano su un sito di incontri hard. E poi per il calcio, Pescara contro l'Ascoli, vincere per sfatare un tabù previsto il pubblico nelle grandi occasioni. Sebastiani a gennaio solo per migliorare. Teramo paga il cambio di preparazione. De Patre, un abruzzese alla guida della selezione di D. E poi ancora di spalla la politica. Centro-destra, pressioni incrociate sui tre nomi. Forse domani il vertice nazionale per la scelta del candidato. Solo silenzio dai partiti. In taglio medio, Capistrello sotto accusa anche la ristrutturazione del comune. Appalti, arrestato il sindaco Ciciotti. E poi ancora marito invalido e cinque figli. In cella per droga a Teramo, la donna in carcere da giugno. Battaglia legale per farla tornare libera. Poi sempre per la cronaca, devastò Harris, denunciato un cinquantenne. A Pescara ecco le vittime della violenza, in particolare la violenza sulle donne. E poi ancora la città, il quotidiano della provincia di Teramo, che apre così sfollati. Alberghi pagati entro oggi e la rassicurazione strappata alla regione dal sindaco di Teramo dopo il caso dell'hotel Abruzzi. E poi sotto la testata, leggiamo, dopo il blitz dei Cinque Stelle, a Giulianova, la ASL, compra quattro poltrone per la chemio. Quindi la cronaca, Sant'Egidio, direttrice delle poste, stroncata da un infarto. Dal badriatico, operaio 38enne, muore per un attacco cardiaco. E poi scendiamo e vediamo a centropagina la fotonotizia. No crossing, spiaggia. Silvi, rivolta ambientalista contro l'evento del weekend. Poi una serie di richiami a Giulianova, il commissario soldà, conferma garantini in municipio per la comunicazione istituzionale sociale. A Roseto, l'assessore punta il dito sull'Unione. E poi da quest'altra parte vediamo una foto dell'ex sindaco Pietro Quaresimale. esporterò il modello Campli in regione. Poi carenza di personale, USR Mazzocca prende a schiaffi i grillini. E quindi in basso, a Roseto degli Abruzzi, il parco di Cologna va salvato. E l'iniziativa facce da caporale, presentato il sondaggio sul calendario dell'IZS. E ora andiamo a fare la nostra consuetta panoramica sulle prime pagine delle testate nazionali. Siamo sul Corriere della Sera. Peculato, Novalite, Lega, Movimento 5 Stelle, lo spread vola e tocca a quota 336. Il flop dei BTP e la BCE dice allarme banche. Governo sotto alla Camera sull'anticorruzione. Salvini, un incidente, Di Maio convoca i suoi. E poi di spalla l'inchiesta, gli italiani non investono, tornano i soldi sotto i materassi. E poi a centropagina il lusso dei Casamonica, sgomberate Ottoville, operazione contro il clan, la sindaca Raggi, giornata storica per Roma. E poi di spalla la nave salvamigranti, rifiuti tossici, diventa un caso il sequestro dell'Aquarius. Poi morto in Indonesia il capodoglio con 6 chili di plastica nella pancia. Siamo sulla prima di Repubblica che apre così. Manovra, arriva la bocciatura UE, la Lega beffa i 5 Stelle sulla giustizia. Ok alla norma che salva gli inquisiti. Governo battuto. Giorgetti vietare le vendite allo scoperto. E poi a centropagina la fotonotizia, rifiuti illeciti, l'ultima accusa per fermare le ONG. Così il muro dei cavilli discrimina i migranti. In basso blitz a Roma, sgomberate Ottoville abusive, le ruspe contro i Casamonica con gran parata dei politici. Andiamo a vedere ora la prima di Libero con questo titolo d'apertura. Politici analfabeti. Gli imprenditori lanciano l'accusa. Boccia di Confindustria. Quando sentiamo dire chi se ne frega dello spread, capiamo che dobbiamo istruire i nostri leader. E se qualcuno ci provoca scendiamo in piazza. Maggioranza battuta la camera sulla giustizia. Salvini e Di Maio Pompieri. E poi che questa vignetta, il nuovo motto del professore, falce e cazzuola, pro di file proletario, gli stipendi alti vanno ridotti subito. E poi scendendo, ecco qui i giudici mi vogliono morto, formigoni in miseria, gli sequestrano i soldi che non ha. E ora il fatto quotidiano. Ecco l'apertura, sabotaggio, la Lega affossa l'anticorruzione per salvare i suoi sottoprocesso. Passa l'emendamento che ammorbidisce il reato di peculato. Chi sono? Gli imputati leghisti, ma pure di Forza Italia e Partito Democratico, miracolati dal voto di ieri. Andiamo sotto la testata. Mala sanità, il batterio fa sei morti nella sala operatoria. Indagati due alti dirigenti dell'ASL di Vicenza. Altro che Francia, da noi costa 1,65 euro al litro, la 1,55. Abbiamo la benzina più cara, zero proteste. Il presidente francese Macron cerca il dialogo con i manifestanti che continuano i blocchi. In Italia tutti i governi hanno alzato le accise dei carburanti, piccoli ritocchi, così gli utenti non se ne accorgono. Andiamo ora sulla prima del messaggero. Governo battuto sulla giustizia. Il verdetto UE scuote le banche. Riforma del peculato passa la norma salva leghisti. Poi stop del carroccio balzo spread. Oggi Bruxelles boccia la manovra. Allarme della vigilanza BCE. C'è sotto la testata intanto l'intervista al cantatore Francesco De Gregori. Non sono ancora maturo. Ora teatro e un tour. Poi per lo sport. Ieri amichevole per l'Italia contro gli Stati Uniti. Vinta il 94esimo. Politano gol. Debutta Ken. Primo millennial. Accordo club UEFA. Sì. Alla Super Champions. E poi in taglio medio rifiuti infetti nei nostri porti. La procura sequestra Aquarius. Indagata MSF per le scorie dopo gli sbarchi. Casa Monica. Ville sgomberate. 600 vigili a gara. Raggi Salvini. Roma blizzi dopo 25 anni. L'asse sindaca Conte sfida il Viminale. Proseguiamo e siamo sulla prima del mattino. Manovra e allarme banche. Il governo K.O. sulla giustizia. Oggi l'Europa boccia la legge di bilancio. Balzo spread. Vigilanza BCE preoccupata. Anticorruzione passa con il voto segreto. Il salva leghisti. Movimento 5 Stelle. Così non si va avanti. In taglio medio. Mal tempo. Reggia di Caserta. Cade un capitello. Tromba d'aria. Paura a Salerno. Nel porto volavano i container. Poi un'intervista del mattino a Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione. Terra dei fuochi. Buoni propositi. Ma ora i fatti servono impianti per smaltire le ecoballe. Dare più poteri a chi indaga sugli ecoreati. La verità. Ecco l'apertura. Zozzoni senza frontiere. Sequestrata da Aquarius. La nave di MSF. Oltre ai clandestini. Avrebbe scaricato illegalmente nei nostri porti 24 tonnellate di rifiuti pericolosi. Tra i quali indumenti infettati da scabbia, TBC, AIDS e altri virus. Poi, in taglio medio, con l'inchiesta di Panorama, tutti gli abusi coperti dalla Chiesa in Italia. Sono centinaia le vittime di preti pedofili. Ma quasi sempre i vescovi hanno messo a tacere. Il settimanale racconta le loro storie. Andiamo avanti. Siamo sulla prima pagina del Sole 24 ore. Ecco l'apertura. Wall Street sotto zero. BTP Italia flop. A New York i principali indici di borsa ancora giù. Azzerati tutti i guadagni da inizio anno. Per il buono del tesoro resta debole la domanda del retail. Ieri venduti solo 241. milioni. Lo spread vola a 337, poi cala. Tria sono preoccupato. E l'ABI dice a ottobre prestiti più cari. Vediamo a centropagina il crollo dei titoli tecnologici dai massimi dell'anno. Ecco qui. Apple meno 22,8%. Google meno 20,1%. Facebook meno 39,2%. Poi ancora oggi la bocciatura UE Italia fuori dalle regole. L'Ungheria non fa sconti. La crescita si rilancia anche senza violare il patto. E poi ancora in basso Unicredit il piano B di Mastier. Poi lo scenario paventato. Scissione tra le attività estere e italiane per superare il rischio Italia. L'ipotesi di un nuovo polo con base in Germania, pochi NPL e rating più alto. La prima pagina del manifesto che apre così procurato allarme. La procura di Catania torna alla carica contro le ONG dei migranti e sequestra la nave Aquarius. L'accusa è di traffico di rifiuti pericolosi smaltiti come normali. Nel mirino del PM Zuccaro gli abiti infetti. Indagati anche gli operatori di MSF. Ennesima campagna per screditarci. E poi sotto la testata torna l'emendamento sul peculato. Il pasticcio è di buona fede. Anticorruzione, governo battuto. E caos. Ora il tempo. Ecco l'apertura. La raggi ne fa una giusta. Ma Salvini gli è a scippa. Il Campidoglio sgombe le Casamonica. E Matteo corre lì a metterci il cappello. E poi sotto la testata Guerlillia, Lega, Movimento 5 Stelle. Il governo va sotto. Caos giustizia. Esecutivo battuto dal voto segreto sull'anticorruzione. Ma i veri mal di pancia sono sulla prescrizione. E poi di spalla, allagamenti e traffico in tilt. Basta un'acquazione. Le strade di Roma diventano piscine. Andiamo sulla prima della stampa. Anticorruzione. Il governo va sotto. Franchi tiratori alla camera. Manca la maggioranza. I leghisti segnala il Movimento 5 Stelle. Salvini passerà. Oggi Commissione UR spinge la manovra. La BCS. Pauracchio greco per le banche italiane. Il carroccio apre all'Europa. Esortando Di Maio a rivedere la legge di bilancio. Il vicepremier Grillino non esiste. E poi la rivoluzione di Banksy. La protesta diventa una mostra. Siamo sul secolo d'Italia. Ecco l'apertura. Le navi dei virus. Aquarius e Vosprudens. Due navi infette di ogni genere di virus. Infezione batterio. Scabbia. HIV, meningite, sifilide e infezioni del tratto respiratorio. Come la tubercolosi. E andiamo a chiudere con l'avvenire. ONG. Nuova Tenaglia. Catania inchiesta su MSF per i rifiuti delle navi. Sequestrata l'Aquarius. La replica. Assurdo. La procura contesta all'organizzazione Nobel per la pace. Lo smaltimento pericoloso. Subito il ricorso. In Libia. Blitz anti-migranti. Lasciamo i quotidiani nazionali. Prima di andare, di tornare per meglio dire, sui quotidiani locali. Andiamo a leggere un comunicato. Arrivato poco fa in redazione. Dalle ore 5.30 di questa mattina 80 carabinieri del comando provinciale di Teramo unitamente a quelli delle province di Roma, Ascoli, Piceno e Fermo hanno in corso una operazione per l'esecuzione di una misura di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Teramo su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di numerosi indagati ritenuti responsabili a vario titolo di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le investigazioni hanno permesso di fare luce su una fitta rete di spacciatori, in particolare annidati nei quartieri Annunziata e La Rocca di Giulianova. Vi rimando per tutti i dettagli al Tg6 delle ore 14 perché nel corso della mattinata ci sarà anche una conferenza stampa che si terrà in procura a Teramo proprio per illustrare ulteriori dettagli su questa operazione antidroga. Andiamo dunque sulle pagine del centro Abruzzo, il quadro dell'economia. La crisi è passata ma la ripresa è lenta. Presentata la nuova analisi del Cresa, bene l'export che tocca quota 9 miliardi. In aumento le società di capitali calano dello 0,2% le imprese attive soprattutto nei settori agricoltura, costruzioni, commercio e manifattura. Nel 2017 le famiglie hanno consumato beni per 19,8 miliardi per una spesa pro capite di quasi 15 mila euro. E poi questa curiosità perché a New York si mangiano appunto gli arrosticini e tutto questo è possibile in un chioschetto che fa parte di una catena fondata da un americano originario di Calamanico Terme da Abruzzo a Bruzzese Street Food ed è solo l'ultimo dei tre punti vendita aperti a New York. Avanti ancora siamo alla politica Gatti, Febbo, Sospiri e altri sei. Stasera a cena con Berlusconi, Forza Italia incontro decisivo per togliere a Fratelli d'Italia il potere della scelta del candidato presidente Pagano e Martino guidano la pattuglia abruzzese e Angelo Sante della Lega zittisce i 22 ribelli. E poi altri movimenti in seno ai partiti in Abruzzo con Di Bastiano che va con Meloni, Viola Ricciardi e Russo a Forza Italia. E poi ancora in basso leggiamo le liste civiche portano in dote 60 mila voti, sono il quarto partito d'Abruzzo, tutti le vogliono, ecco chi le guida e quanto valgono singolarmente. Qui vediamo i due ex assessori regionali Gerosolimo e Di Matteo, il leader di azione politica Zelli e l'ex parlamentare abruzzese Di Stefano. Possiamo andare avanti con la pagina Abruzzo, ecco qui sul fronte trasporti ci sono delle novità e a Pescara arrivano due nuovi Frecciarossa, aumentano i collegamenti dall'Abruzzo con le città di Milano, Torino e Lecce, la stazione del capologo adriatico in servizio ai ragazzi che aiutano i viaggiatori. E poi di spalla leggiamo la battaglia in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle con i tagli dei vitalizi, un risparmio di 10 milioni, due le proposte di legge presentate per il 29 novembre, la seconda introduce il principio dei divieti di cumulo per chi ha ricoperto diversi incarichi elettivi. Andiamo avanti, siamo sulle pagine di Pescara, visto che ci si avvicina al 25 novembre, ovvero la giornata contro la violenza, ecco qui mille donne chiedono aiuto, aiutateci a fermare gli abusi. Aumentano le segnalazioni all'associazione Ananche, dal 2013 sono quasi 3 mila. Domenica in piazza Sacro Cuore saranno liberati i palloncini con nomi di vittime del femminicidio, a partire da quello di Jennifer Sterlecchini, Maria Carmela Minna dell'Ast, i consultori mettono a disposizione ostetriche, ginecologi e assistenti sociali anche per le migranti. Poi ancora la storia perseguitata dalla ex, vi racconto la mia vita, è diventato un inferno, il calvario di una 45enne tra paura, vergogna e sensi di colpa prima di trovare la forza di rivolgersi a un legale e denunciare. Allora vediamo il servizio del TG6. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre, l'associazione Ananche Ollus vuole porre la sua attenzione su questa tematica dolorosa e purtroppo sempre attuale, ribadendo con forza che in una società avanzata non debbano trovare posto su prusi e maltrattamenti. Quest'anno l'associazione Ananche celebra la giornata internazionale della donna in una maniera speciale. A fianco a questa iniziativa di sensibilizzazione sul territorio abbiamo deciso di accompagnare una campagna che sia social e sul web, quindi abbiamo creato proprio una cover da mettere su Facebook, su siti istituzionali, abbiamo pensato a uno spot che verrà lanciato in giornata, verrà creato un link per visualizzarlo in maniera tale che tutto quello che facciamo possiamo raggiungere un po' il maggior numero di persone possibili. Un'altra iniziativa di quest'anno è che al mezzogiorno, proprio in piazza, noi faremo il lancio dei palloncini con i riportanti nomi delle donne vittime di femminicidio, quindi abbiamo deciso di ricordare anche un aspetto un po' più triste di questo fenomeno che è proprio il femminicidio. La sera ci sarà uno spettacolo di beneficenza per l'associazione Ananche Ollus presso lo spazio matta di Pescara. Aumenta in qualche maniera la comunicazione intorno alla violenza, perché in realtà noi abbiamo notato negli anni, da quando ormai sono dieci anni che lavoriamo su questo campo, che i dati per noi sono un minimo crescendo, il crescendo è giustificato un po' dalla capacità che abbiamo di reperire i fondi, di restare aperte cinque giorni su sette, e quindi garantire l'accoglienza delle donne. È un po' l'attività di sensibilizzazione, quindi in realtà molto probabilmente, considerando che il fenomeno della violenza del più del 90% è sommerso, non è che è aumentata, è quello che emerge che è aumentato. E ora a Pescara il bilancio, vediamo sul centro, aumenta la spesa sociale, meno fondi per la cultura, al via il confronto con le forze politiche, i sindacati sul bilancio di previsione, presto una società per contrastare l'evasione fiscale, investimenti per 16 milioni, ne hanno parlato ieri il sindaco Alessandrini e il neoassessore al bilancio del comune di Pescara, Marco Presutti. Avanti ancora, assenteismo, sette indagati sfilano davanti al giudice, domani l'interrogatorio di garanzia dei dipendenti di provincia e ambiente, sospesi per sei mesi dal lavoro dopo essere stati filmati e fotografati dai carabinieri. E poi ancora, pagina 20, emergenza sociale, serve una legge per contrastare il gioco d'azzardo, Appello degli esperti durante il convegno al liceo MIBE, la spesa per curare la malattia continua a crescere, ieri appunto gli esperti a confronto anche il sostituto procuratore Fabiana Rapino e poi ancora altri esponenti. in basso vediamo anche Moreno di Petrantonio del SERD, della ASL. Avanti ancora, siamo... Tanto qui c'è qualche problemino che cerchiamo di risolvere. Ecco qui, forse, forse, ecco qui, siamo riusciti a risolvere. Possiamo andare avanti, a pagina 21, arriva in centro il vagone di un treno pieno di luci colorate. Lungo 35 metri sarà l'attrazione degli eventi di Natale in Piazza Salotto, una pista di pattinaggio a forma di cuore. Poi di spalla, in questa pagina, vediamo firmata l'intesa, ieri presso la Camera di Commercio, presenti anche i sindaci di Pescara e Chieti, Alessandrini e Di Primio, lucida artista, collega Pescara a Chieti nel nome di Becci. Vediamo il servizio. Presidente, un'unica Camera di Commercio, Pescara a Chieti, lucida artista, per la prima volta arriva nel Capologo Tiatino. Sì, diciamo che quest'anno la terza edizione avrà questa novità, che avendo l'ente camerale un territorio più ampio, chiaramente farà accendere le luci di Natale sia su Pescara che su Chieti. Come funzionerà quest'anno questa iniziativa? L'iniziativa funziona proprio secondo la nostra mission, che è quella di incentivare le attività promozionali che vengono richieste sia dalle nostre associazioni che dal territorio, ampliando un progetto che non vede più solo Pescara ma anche Chieti, per cui per la prima volta sono due territori in Italia, questo format non esiste. È un'opera di internazionalizzazione da parte della Camera, che è la nostra mission, e svolgendo un'attività di incoming su operatori turistici e sui giornalisti che possono arrivare attraverso l'aeroporto di Pescara. Lucida artista, penso, è una manifestazione che funziona molto, perché quando vedi le persone che si fanno i selfie davanti a queste installazioni, come è successo negli anni scorsi e come succederà anche a Natale prossimo, allora vuol dire che siamo nel senso giusto. È una forma virtuosa di compartecipazione fra enti che dai rispettivi punti di vista però contribuiscono entrambi ad un Natale all'altezza delle nostre aspettative che possa favorire i costumi, un momento di festa, e poi magari ci mettiamo anche qualche riflessione che non guasta mai. È una bella iniziativa che per me è anche un ricordo del mio amico Daniele Becci col quale concordammo di fare questa cosa. Oggi ringrazio il nuovo Presidente per aver dato corso a quella idea progettuale dello scorso anno, coinvolgendo anche Chieti in questa manifestazione che la Camera di Commercio ha promosso e che prima ha sposato Pescara e oggi sposa anche Chieti, creando una sorta di offerta unica per le luci di artista nel panorama dell'area vasta Chieti-Pescara. Possiamo diventare un motivo di attrazione, come succede in altre parti d'Italia, e io spero che sia proprio questo, un motivo di attrazione per chi vorrà visitare il nostro Abruzzo, per chi vorrà visitare le nostre città, quelle di Chieti e di Pescara ovviamente. Proseguiamo, siamo sulle pagine di Montesilvano, aspettando il grande freddo, via libera al piano neve, la città divisa in otto zone, la Giunta ha approvato il documento che contiene le procedure di intervento suddiviso ulteriormente in quattro quadranti, l'area collinare è più a rischio. E poi ancora a Città Sant'Angelo, Florin di Nuova Strada sul Piomba, appalto pronto entro maggio, il sindaco di Città Sant'Angelo, chiamato in causa dal collega Di Silvi, che ha già concluso la sua parte, dice manca la cessione dei terreni da parte dei privati, se tutto va bene, lavori conclusi entro il 2019. Avanti, siamo a Francavilla, Piazza San Domenico si comincia, la riqualificazione in 40 giorni, ieri la consegna dei lavori al consorzio Pangea, che aprirà il cantiere la prossima settimana, il progetto da 140 mila euro, e compreso anche l'intervento sulla fontana esagonale di San Franco. E ora in Val Pescara, calciatore pestato, la pista della gelosia, il 34enne era a casa di un amico quando è stato invitato a scendere in strada, al vaglio delle telecamere della zona Conad, tutto questo appunto a popoli. E poi in taglio medio, Rigopiano, nuovi whatsapp in procura, li ha depositati la sorella di Roberto Del Rosso, che Ciud si impegnò a mostrare le foto a D'Alfonso, quel giorno prima della valanga, andai due volte in provincia, la consigliera mi disse, ti aggiorno come promesso. E poi ancora, le pagine di Chiedi, la tragedia in strada, investita e uccisa, autista del bus alla guida con il cellulare in mano, svolta nel processo sulla morte di un'anziana, le telecamere del mezzo incastrano il guidatore, accusato di omicidio stradale, stava usando il telefonino, e non ha fatto in tempo a fermarsi. E poi ancora, a Lanciano, a Lunni, al gelo, perché mancano 700 euro, tanto ammonta la somma che il comune, non aveva per indire la gara d'appalto, protesta Paolucci, finanze nel caos. E poi ancora, siamo alle pagine di Teramo, avevano già le buste per il cadavere, il giudice, nel respingere la richiesta di scarcerazione per Santoleri, segno, ipotizza la premeditazione per padre e figlio. Il magistrato parla di un tranello in cui l'uomo avrebbe attirato l'ex moglie. In basso, opera d'arte contro la violenza sulle donne, domenica inaugurazione alla Villa, sabato lo spettacolo Amori Amari, al teatro comunale. E poi ancora, la situazione al Mazzini di Teramo, infettivi, tanti ricoveri, pochi medici, i quattro specialisti, oltre ai degenti, si occupano dei controlli sui migrati e malati di HIV e delle terapie anti-epatite C. Atri contestati, i lavori sul Vomano, si rischia di inondare le strade, secondo i residenti, nella zona di Fontanelle, le ruspe avrebbero ristretto le sponde del fiume. Il sindaco Ferretti dice, stiamo verificando se c'è pericolo, chiederemo la sospensione delle opere. E ora le pagine aquilane, la sede del Cotugno a Colle Maggio, proposta ufficiale della provincia, al sindaco e al manager ASD, per la cessione dell'area, si pensa a una permuta, ai due enti, pronti a stipulare, un accordo per poi procedere all'appalto e alla progettazione, la decisione dopo un'indagine di mercato, dice il presidente della provincia dell'Aquila, Caruso. E poi, in dettaglio medio, Confindustria, ha eletto il nuovo consiglio, torna in ballo il progetto della fusione l'Aquila-Terramo, dopo lo stop per l'uscita dell'ex direttore. E andiamo a chiudere con le pagine di Avezzano, arrestato il sindaco Cicciotti, bufera a Capistrello, appalti truccati, accusato di corruzione e concussione, altri 16 gli indagati. E poi in basso, sono innocenti, ho fatto del bene, il primo cittadino non vuole dimettersi e si difende. Dubbi sulle dichiarazioni dell'accusatore. E poi ancora le intercettazioni, il costruttore denuncia, ho pagato una tangente, per gli interventi alla scuola Sabin, si sospetta una truffa da 18 mila euro. Il GIP, incarichi a persone legate, la loro stretta cerchia di amici e conoscenti. Noi ci fermiamo con la prima parte di Mattino 6, spazio alle previsioni del tempo, poi la pubblicità, e poi rientriamo con la seconda parte. Di nuovo, buongiorno, seconda parte di Mattino 6, e siamo sul messaggero Abruzzo, riprendiamo con l'economia, con l'analisi del Cresa. L'Abruzzo cresce, ma non è fuori dalla grande crisi. PIL aumentato dell'1,2%, in ripresa all'export, buoni segnali dall'occupazione, ancora male l'edilizia. Giovani laureati trovano facilmente un posto entro tre anni, il valore aggiunto della farmaceutica. E poi ancora, in taglio medio, un frecciarossa in più a Pescara, sulla tratta Torino-Milano-Lecce. Poi in basso, i 5 stelle, via i vitalizi, risparmio di 10 milioni, proposta di legge per togliere la pensione a chi ne percepisce un'altra derivante da attività elettiva. Vediamo il servizio del Tg6. L'Abruzzo potrebbe risparmiare 10 milioni di euro per ogni legislatura grazie all'approvazione delle due proposte di legge regionale relative al taglio dei vitalizi, all'abolizione del cumulo del secondo e del terzo vitalizio. Un tema caro al Movimento 5 Stelle sin dall'inizio dell'attività istituzionale, che oggi torna nel dibattito politico grazie alle nuove norme del governo Conte sui vitalizi per le regioni. Oggi chiediamo al Consiglio regionale, quindi alla maggioranza del Partito Democratico e anche all'opposizione di centrodestra di approvare due importanti leggi del Movimento 5 Stelle, e cioè l'abolizione del doppio vitalizio e la riduzione proporzionale dei vitalizi già erogati. Sono leggi importanti che il Movimento 5 Stelle ha depositato nel 2014 e nel 2016 che riporterebbero un po' di equità sociale e che farebbero risparmiare a Regione Abruzzo e ai cittadini abruzzese ed italiani fino a 10 milioni di euro per ogni legislatura. In legge di bilancio si è prevista una norma in base alla quale se le regioni non si adeguano a diminuire gli assegni vitalizi le regioni subiranno una decurtazione dell'80% dei fondi trasferiti dallo Stato alle regioni per il funzionamento del Consiglio regionale. Questo è importante perché non riguarderà ovviamente i trasferimenti relativi a sociale o trasporti e a tutti quei servizi per i cittadini ma soltanto al funzionamento della macchina. Quindi noi chiediamo che nel primo Consiglio regionale utile che si terrà il 29 di novembre venga inserita fuori sacco come è avvenuto per tante norme in questi 4 anni e mezzo di Regione Abruzzo queste norme di buonsenso che farebbero risparmiare un po' di soldi ai cittadini abruzzesi e riporterebbero un po' di equità tra i cittadini normali che pagano i contributi e hanno delle pensioni da 300-400 euro e questa sorta di pensionati d'oro. Siamo alle pagine di Pescara sul messaggero Lucid Artista richiamo per i turisti la Camera di Commercio ha affidato l'appalto alla Metalux il presidente Angelucci dice una bella spinta per il commercio l'accensione l'8 di dicembre la lista delle vie interessate il sindaco Alessandrini la città diventa metanatalizia per la prima volta il progetto coinvolge le due amministrazioni di Pescara e Chieti con il sostegno di Pescara Abruzzo paesaggi fatati con Babbo Natale Orso Trichieco è un super treno per la gioia dei più piccoli e poi ancora in taglio medio vediamo conti risanati investimenti sui rifiuti il neoassessore Presutti presente il bilancio da provare in aula forte lotta all'evasione e potenziamento della raccolta differenziata allora vediamo un'intervista rilasciata a Paolo Rezzetti proprio dal neoassessore al bilancio del comune di Pescara Presutti si parla di conti questa mattina in conferenza stampa bilancio del comune di Pescara un comune di Pescara che esce da un predissesto qual è la situazione assessora? ma allora oggi noi abbiamo presentato lo schema di bilancio che ora sarà sottoposto al consiglio comunale lo schema di bilancio che appena l'aggiunta qual è la situazione? una situazione di un ente che nel 2014 era di fatto strutturalmente in squilibrio a un passo sostanzialmente era diciamo nel dissesto che invece attraverso le operazioni fatte di ripristino della solidità finanziaria ora invece è un ente equilibrato che dal punto di vista dell'equilibrio finanziario è un equilibrio sostenibile quindi c'è solidità nei dati fondamentali del bilancio e tutto questo avviene di fatto senza aggredire i servizi per i cittadini poiché anzi quest'anno sulla spesa sociale la parte che mette l'amministrazione aumenta di circa 500 mila euro e i servizi culturali le spese per investimento quindi per la riqualificazione del patrimonio infrastrutturale della città non vengono meno ovviamente saremmo tutti quanti lieti di avere più risorse per poter fare più interventi ma diciamo siamo contenti di poter avere uno strumento che noi vogliamo possa essere approvato come peraltro dovrebbe essere sempre entro il 31 dicembre in maniera tale che sin dal primo gennaio il bilancio possa essere operativo questo fatto è molto importante soprattutto perché se il bilancio non fosse operativo al primo gennaio noi non potremmo investire non potremmo fare la spesa per investimento cioè per tutti quegli interventi infrastrutturali per la città che invece sono particolarmente preziosi ma confidiamo di poter raggiungere questo obiettivo appunto e quindi di avere dal primo gennaio lo strumento pienamente operativo sempre sul messaggero nelle pagine di Pescara violenza più vittime tra le ragazzine dati shock del centro Ananche che nel 2018 ha avuto richieste di aiuto da 963 donne maltrattate anche le adolescenti tante le iniziative per celebrare la giornata mondiale venerdì al museo Colonna i risultati del progetto Sibill e poi ancora raccontiamo Jennifer ai ragazzi delle scuole due anni fa all'omicidio della Sterlecchini mamma e fratello al liceo da Scagno con il Lions Grab e le istituzioni proseguiamo siamo sempre a Pescara operazione sicurezza per la pista ciclabile via ai lavori del comune per risolvere crepe dell'asfalto ed effetto savana definita l'acquisizione del tracciato il tratto lungo l'argine collega Ponte Fraiano e Ponte Libertà è un anello decisivo per il sistema di mobilità alternativa la polizia provinciale ha prescritto gli interventi da fare dopo un sopralluogo con l'auto in arrivo sulla Rivera Sud e poi migliora il calciatore pestato carabinieri a caccia di video ultimi controlli oggi in ospedale per Emiliano Dorazio ancora incerta la ricostruzione dell'accaduto per il ragazzo di Popoli un ragazzo 34enne di Popoli avanti siamo alle pagine dell'Aquila una illuminazione intelligente per ridare vita a piazze e vicoli presentato l'innovativo impianto che è già in funzione a Piazza Palazzo il meccanismo si adatta in automatico al ritmo naturale del sonno e della veglia l'amministrazione punta su Light for Life che sarà esteso a Piazzetta del Sole e Piazza Martiri e poi di spalla per il nuovo classico un'area a Colle Maggio questa appunto la proposta che arriva dalla provincia avanti ancora corno piccolo tutta un'altra storia secondo l'ex presidente del CAI di Ascoli Piceno la più bella vetta rocciosa del Gran Sasso è stata raggiunta 47 anni prima fino ad oggi l'ascensione è stata attribuita all'alpinista romano Enrico Abbate e alla guida Giovanni Acitelli di Assergi nel 1887 scoperta casuale dicono non andavamo a caccia di scop avanti ancora siamo in Valle Roveto capistrello bufera sul comune tre arresti assieme al primo cittadino Franco Ciciotti posto ai domiciliari in misura cautelare anche per un tecnico e un consigliere municipale alla base del provvedimento del giudice lavori pubblici appalti un esposto denuncia ha aperto la partita indagano i carabinieri siamo sulle pagine di Chieti sempre la cronaca hotel devastato vandalo incastrato dalle telecamere è un cinquantenne il presunto autore del ride a Larry's un agente lo ha riconosciuto durante un controllo in strada i suoi movimenti ricostruiti esaminando una serie di filmati ignoto il movente esclusi collegamenti con la notte di Halloween e poi di spalla balla nuncia shock stop immediato alla produzione e poi ancora vediamo la pagina successiva siamo a Lanciano scopre le sue foto su un sito erotico furto d'identità per una madre 49 anni di Lanciano e un incubo sono allibita ribattezzata Monella con tanto di iniziali avere un tatuaggio la rende riconoscibile la donna si è rivolta all'avvocato Maria Grazia Piccinini e poi ancora emodinamica addio il comitato va in piazza a Vasto monta la protesta per la mancata attivazione al San Pio dopo le promesse PD amato non ci sono i requisiti minimi siamo alle pagine di Teramo del messaggero Luci Casette Bosco Urbano ecco il Natale delle Meraviglie location diffuse nel cuore della città per la prima volta collaborano le scuole Betulle e Fiori in piazza Sant'Anna un villaggio in piazza Sant'Agostino con il ricco programma degli eventi l'assessore Filippo Nisperra di attirare visitatori anche da fuori provincia e poi ancora all'organizzazione hanno partecipato numerosi partner tra cui Vescovado Università e Comitati di Quartiere avanti ancora siamo a Giulianova pini tagliati inquilini Ater non paghiamo sono arrivati i vaglia per le potature dei rami eccedenti ma tutti sostengono che non spetta loro l'onere di versare il corrispettivo ci sono stati alcuni casi di patologie determinate da polvere che usciva dagli alberi qualcuno si è ammalato e poi ancora sempre a Giulianova ladri scatenati rubano tre auto e visitano due pub nel paese alto lasciamo il messaggero andiamo sulla città siamo al caso sfollati l'hotel Abruzzi verrà pagato entro oggi il sindaco d'Alberto chiama la regione per i ritardi sui pagamenti oggi a colazione sarà in albergo il comitato degli sfollati non esclude una manifestazione assieme ai quartieri centro Santa Croce pronto alla mobilitazione poi ancora il destino della Team si delineerà a fine mese il 30 novembre l'assemblea dei soci per decidere tra società pubblica in house o nuovo socio privato il mandato del presidente Bozzelli scade nel 2019 ma per il momento non ci sarebbe alcun cambiamento in vista pagina 7 la politica resa dei conti social nel PD di Teramo un post di Bo si riaccende e scatene il dibattito tra i dissidenti di Cavallari e i lealisti di Dalberto e poi ancora quest'anno 7 morti sulle strade incontro con gli studenti alliti per celebrare la giornata delle vittime di incidenti pagina 9 uffici speciali per la ricostruzione Mazzocca schiaffeggia i grillini impossibile aumentare il personale del terremoto per colpa delle scelte del governo pagina 10 la meglio terramo a sereno variabile la trasmissione di Osvaldo Bevilacqua celebra le scrippelle in busse all'unità con l'accademia della cucina terramana eccolo qui il noto conduttore con il rettore e tutti gli altri componenti di questa giornata dedicata appunto alla buona cucina terramana andiamo a pagina 13 l'intervista a Pietro Quaresimale porterò il modello Campli in regione l'ex sindaco Farnese presenta la candidatura all'emiciclo puntando su turismo ambiente e sicurezza eccolo qui l'ex sindaco di Campli Pietro Quaresimale candidato ora in regione siti archeologici rivolta dei sindaci contro la regione hanno dimenticato i tesori di Martinsicuro Corropoli e Tortoreto simboli di tutta la vibrata secondo i sindaci la regione non ha dato rilievo ai siti vibratiani durante la borsa del turismo archeologico di Pestum a pagina 15 nessuna manutenzione per la scuola la denuncia di Colonella cambia sulle condizioni della struttura proseguiamo e siamo a Giulianova la ASL acquista le poltrone per la chemio dopo la segnalazione dei consiglieri regionali Marcozzi e Mercante proseguiamo e andiamo su pagina 18 prima di aprire lo sport rivolta ambientalista per il cross sulla spiaggia a Silvi il VUF scrive a sindaco Capitaneria MP per il motor show del prossimo fine settimana il VUF chiede se sia stata fatta la valutazione di incidenza ambientale necessaria in queste situazioni e ora come detto lo sport sulla città e quindi si parla di Teramo allarme caidi speranza ora migliorarsi il difensore ha un problema al flessore rischia di saltare la sfida interna contro la Gianna Erminio e poi le parole del capitano il lavoro di Maurizio è diverso da quello di Zichella c'è stato un periodo di adattamento e tornare a casa da Verona senza punti è davvero una cosa antipatica facciamo un break con le testate nazionali sportive siamo qui sulla gazzetta dello sport mercato in evidenza il Milan vibra gioco di parole per questo ritorno di cui si parla tanto quello di Zlatan Ibrahimovic al Milan Zlatan Essenzi più Paredes sono in pole per la difesa Rodrigo Caio o Christensen e poi ancora sotto la testata Millennial Italia i Mancini Boys sfondano storico esordio per Ken la nazionale ritrova il gol con Politano USA sconfitti 1-0 al 94esimo Verratti e i Baby crescono lo Juventino primo 2000 in azzurro e poi di spalla il palone d'oro Ronaldo battuto e giù dal podio prima indiscrezione pure Messi out e andiamo a vedere la prima del corriere dello sport schiaffo a Ronaldo sul podio Varane Mbappé e Modric per il pallone d'oro un video svela le scelte dei giurati Cristiano escluso paga l'addio al Real che ha comunque due candidati fuori anche Messi e poi sotto la testata Coni non voglio la guerra il sottosegretario Giorgetti nella redazione del Corriere spiega la riforma dello sport impossibile raggiungere un obiettivo comune litigando per ora non ci sono incontri ma se Malagò vuole chiami e poi tutto sport ecco l'apertura Varane Chi Ronaldo fuori dal podio del pallone d'oro la giuria designata dai francesi piazza il difensore del Real con Mbappé e Modric sotto la testata Politano e Ken che festa questa Italia ha un futuro e poi mercato Cairo deciso a comprarlo Toro Aina l'intesa o l'Aina giocatore in prestito dal Cessi potrebbe diventare a tutti gli effetti del Toro e poi Inter colpo di Marotta Regalo Milinkovic il Milan e la sentenza UEFA Vidal più Ibra e Lora torniamo sulle testate locali e andiamo sul centro con lo sport si parla di Serie B e di Pescara il Pescara in allerta Lascoli mette paura i bianconieri hanno vinto tre delle ultime cinque sfide in Abruzzo ecco qui i precedenti vediamo le ultime cinque sfide con tre vittorie a Scolane nel 2004 nel 2010 e l'ultima lo scorso mese di maggio nel 2018 dunque 0 a 1 con gol partita di Bianchi poi leggiamo ancora Pillone rilancerà Del Grosso confermati Marras Mancuso e Antonucci nel Tridente Vivalini punterà sul ritorno di Ardemagni e poi in basso da Panchinaro a Bomber la rivincita di Mancuso nella primavera del Milan era una riserva invece i bianconieri Gans e Beretta giocavano spesso per la Serie C Diavolo in difficoltà dopo il K.O. di Verona Speranza sferza il Teramo niente alibi rialziamoci il capitano dell'ottava stagione in bianco rosso domenica bisogna vincere un punto nelle ultime tre gare per il Diavolo bisogna essere più pericolosi negli ultimi 25-30 metri non mi riferisco soltanto agli attaccanti Tegola per Maurizzi che perde Caidi per infortunio il difensore verso il forfè nella gara contro la Giana Erminio e poi questa notizia che riguarda un allenatore abruzzese come Tiziano De Patre De Patre nuovo allenatore della rappresentativa di Serie D andiamo a chiudere con le pagine dello sport del messaggero Abruzzo Pescara con Lascoli un tabù da sfatare Pienone domenica prossima all'Adriatico per il derby contro i marchigiani di Vivarini al Delfino la vittoria manca da sette anni Pillon stavolta vuole farcela con Del Grosso e poi le parole del presidente Daniele Sebastiani a Gennaio solo per migliorarci e poi ancora per quanto riguarda il ciclismo Marangoni vince nell'ultima corsa l'alfiere Nippo Fantini una vita da Gregario sbarera tutti al tour di Okinawa certi finali esistono solo nelle favole e poi ancora Serie C il Teramo sta pagando il cambio di preparazione Capitano Speranza ci mette la faccia nei momenti di difficoltà dovevamo fare punti a Verona troppi gol nel secondo tempo troppi gol presi Perazzolo con Zichella aveva lavorato ad una partenza sprint poi i ritardi dovuti ai ricorsi al TARA hanno vanificato tutto Perazzolo preparatore atletico sull'asse Asta prima Zichella poi per il basket Cimorosi Roseto testa bassa e pedalare poi come abbiamo appena visto l'abruzzese Tiziano De Patre guiderà la selezione di Serie D volevo cimentarmi in questo nuovo ruolo mi piacciono i giovani dice appunto De Patre e poi per il basket Carpanzano nel motore per l'unibasket Pescara ci fermiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione della nostra emittente le tre edizioni principali del TG6 alle ore 14 alle 19 e alle ore 23 mattino 6 invece torna domani mattina alle ore 8 io ringrazio in regia Claudio Di Giacomo e ringrazio voi per la cortese attenzione buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.